E' stata vinta dalla formazione Salta il Muro la quinta edizione del torneo di calcio 8 disputato nell'impianto sportivo della parrocchia dedicata alla Beata Maria Gabriella. Un torneo organizzato dalla SD BMG Sport presieduta da Maria Giovanna Carroni in occasione della festa patronare che ha impegnato l'intero rione di Badeccarro a fine aprile. Alla competizione che è stata molto combattuta hanno preso parte 10 formazioni, la Falegnameria Paolo Meloni, Salta il Muro, Longobarda, Uberalless, Pistonca United, Tecnoerghe, Montiblu, Tutabirra, Anima Sport e Drink Team. In semifinale sono qualificate le formazioni del Salta il Muro che ha sfidato la Falegnameria Paolo Meloni superandola col punteggio di 5 a 2. Nella seconda semifinale invece si sono sfidate le squadre Tecnoerghe e Pistonca United, un match molto equilibrato che dopo i tempi regolamentari è terminato in parità sul 2 a 2. Per decidere la seconda finalista si sono resi necessari i calci di rigore che hanno visto prevalere il Pistonca United. Tutte le squadre si sono impegnate a fondo per superarsi mostrando anche buone trame di gioco, dal resto si tratta di formazioni che da anni disputano i tornei di calciotto in città e per questo hanno raggiunto al loro interno un'ottima intesa. Le finali sono state disputate giovedì, quella per il terzo posto ha visto di fronte la Falegnameria Paolo Meloni contro la Tecnoerghe, una gara terminata col punteggio di 4 a 1 a favore della Falegnameria. La finalissima invece ha visto di fronte Salta il Muro e Pistonca United, un match combattuto nel quale ha prevalso Salta il Muro col punteggio di 5 a 1. Al termine della competizione, trofei per tutti nel segno dello sport, dell'amicizia e della devozione nei confronti della patrona, la beata Maria Gabriella. Grazie!